Salve a tutti ragazzi come SuperMaticBros, io sono Darbis, io sono Ray e io sono Lok Oggi parleremo di cosa, no? Oggi sarà un topic of discussion, veramente serio e importante, è attuale Seat Fighter X Tekken, l'ultima speranza, la morte, la morte Deve morire o salvare Diciamo che abbiamo una trentina di pagine che potrebbero dire no E cominciamo a leggere tutte No, no, intanto cliccate qui, sopra la Dalvis per vedere il trailer della patch Perché in dicembre, non so bene quando, comunque in dicembre uscirà la patch 2013 Potrebbe salvare il culo alla fine del mondo Alla fine del mondo Specifichiamo che è gratis, perché ho visto gente che aveva i dubbi, è gratuita, non dovete aver comprato i personaggi Ma io ti posso dare anche il minimo Vabbè, no, no, ovvio che Vabbè, con tutto quello che vende la Capcom non sa mai Ma ha capito, però, già ha fatto una merda Vabbè, poi comunque le patch non può venderle, Luigi Non c'è comune molto Può giocare meglio Perché è una tassa Ma è una tassa Con le mappe di Halo che ho le tasse, vabbè, dai Ma parliamo della nascita, parliamo dei problemi di X-Tecan che ha avuto fin dal lancio Perché c'è tutta una... Giusto o vai? Ma c'è giusto, tutta una storia... No, vabbè, la riassumiamo di video No, vabbè, la riassumiamo di velocemente C'era l'app, non è che saltava, non c'era Uno con la pessima connessione, no O uno con la pessima connessione perché proprio non vedi dei pezzi di sopra Non è che lagga tutti e due e dici, vabbè No, proprio non vedi dei pezzi di colpo che poppano dall'altra parte Ma peraltro, se non lo fa a prendere, non ci sono dei recovery Quindi uno potrebbe continuare a spammare, quasi si mossa E continuare a fare perché non ci sono dei tempi di recovery Ma che tu mangiate, che tu mangiate, che tu mangiate Comunque, vabbè Il primo era quello, e già Cazzo, faccio uscire un titolone così, iniziamo con mancanza del suono online Ma poi hanno fixato l'audio, tutto bene E sembrava comunque Ma poi è sfruttato un altro problema Che era appunto Il glitch di Rolento Vabbè, quello fa ridere Cioè, alla fine non ti cazzare, ti facci una risata Sì, sì, sì Ma sì Cioè, per chi non lo sa, se la Duken impattava su un coltellino di Rolento Si frizzava la console No, ma qualunque proiettile in realtà Qualsiasi proiettile con l'idea, la compagnia Ma non è che dici che esce nella partita No, no Si blocca Si può anche rovinare Poi era bello perché quando giocavamo ieri in squadra online Becchavamo quelli forti Io usavo Rolento ed era il tiro d'emergenza Ok, aspetta la Duken, aspetta la Duken là Ah, frizzata la console Anche perché intanto il 30% delle persone usava Ryu E la Duken era volento quindi E' beccabile E' beccabile E' beccabile E' beccabile E' beccabile E' beccabile L'online ok abbiamo capito che aveva qualche problema Si Quali erano i problemi fondamentali del gameplay? Eh diciamo che non riuscivi a fare così tanto danno da poter ammazzare l'amversario perché finiva prima il tempo Non potevi proprio Non potevi proprio E a volte poi muorevi subito Si perchè non taggavi bene Però quello di io sono star al giocatore nel senso Invece quando il giocatore non può farci proprio nulla è proprio per la meccanica del tempo Esatto ma è un po' strano perché Non sai neanche se hai perso perché l'adversario era più bravo o per cosa avevi sbagliato Perché proprio non c'era proprio il tempo appunto Diciamo come al solito i vittore e i time over non valgono Basta Il problema secondo me grosso era tutta una conseguenza di piccoli difetti Meccaniche del gioco che insieme non stanno bene Per esempio si stunnava troppo con i deboli e con i jab E lì perdevi un sacco di tempo perché stavi due ore in bloc Oppure che ne so Le animazioni lunghissime delle ultra e delle hiper Il tempo... Proprio di questo topic Il fatto che non hanno messo le interruzioni del tempo delle animazioni Cioè è da sempre che è così Sono delle mie... Ma è gestito in un altro modo il tempo Però nel senso Già vi sono dei hiper da 2 Si che devi fare Fai le animazioni 1 Poi andranno a fare... Però cazzo Il tempo è già quel che è Almeno interrompi E quindi sono una serie di cose che messe insieme Hanno generato il problema del time over Perché il problema non è come tanti pensano Aumentiamo il tempo e siamo a posto così No! Perché servono comunque partite lunghe e noiose da seguire La partita round deve essere più conciso Scusate Il round deve essere più conciso insomma E quindi andiamo a vedere E quindi un minimo di modifiche L'ha fatto già il recovery damage Già quello dovrebbe accorciare un po' Hanno velocizzato scusate E hanno rallentato la ricarica della vita Di chi è in panca Di molto Di molto Cioè se vedete il video Prima proprio Saria velocissimo Adesso sarai meno Quindi forse ti accorcia un po' la partita Quello sicuramente E poi Diciamo anche che si vede adesso La barra che si vede Si perché sei osso Si ma era quel giallino sbiadito Che non capivi Se era vita tua o vita Ma sono piccole cose Ma l'occhio bisogna avere dei segnali chiari Sembrano delle cazzate Quando vedi il video Dici vabbè Ti sei fotte del colore Eh però Anche mentre giochi Deve essere assoluta una cosa Che ti basa l'occhio Non devi dire Nessuno va a guardare Lo vedi con la cosa dell'occhio Sempre Beh riguardo a questo C'è anche l'attivazione delle gemme Che è molto meno sbaglucicosa adesso Che fa perché Quando uno metteva i costumi Con i colori Quelli fosforescenti E poi attivava le gemme Diventava tipo Super Saiyan E non si capiva niente E lì era tremendo Che confondeva un po' Poi Altra roba cosa c'è? Beh hanno messo Che quando fai il Launcher Non rallenta più il tempo Sembra Ma ogni launcher anche lì Guadagni qualche decimo di secondo Ed è anche più facile fare le combo Infatti era più facile Anche cocatellare le combo dopo Quindi Ma ad esempio questa Non lo capite tanto Nel senso La scritta fight Che Cioè il combattimento inizia quando La scritta fight sparisce Prima nel senso Iniziava Magari Puoi reagire prima con certi input Rispetto No diciamo che guadagni quel decimo di secondo Inizio della partita Però va bene No no ma il contrario Qua dice start fighting Cioè inizia a combattere Quando la parola fight sparisce Prima forse iniziava leggermente prima Devo vedere Metterò il pezzo del video Sì sì No perché appunto capire Perché se non ha fatto c'è utile Perché probabilmente facevi Forse riuscivi a nasconderti dietro al fight Per fare dei Magari andavi già prima avanti Che poi sembra una puttanata Che ci ma com'è Vabbè questo è proprio Però è la prima cosa che mettono Però è la prima cosa che mettono È la prima riga È la prima riga È la prima riga È la prima Ma più che altro Io voglio vedere Fai vedere quanto quanta roba Guarda Questo è il patch log 2 patch log 2 patch log 2 foglioni enormi Tutta sta roba 2 plinchi 2 plinchi Adesso vi studierete a casa tutti Sì Metteremo il link dove scrivete No Lo cercate su Inter Ma quello è Tutti i personaggi Hanno ricevuto Tanti tanti Vi bilancio in salita Non so se Quindi Tanti Tanti E poi tanti che Non voglio neanche immaginarvi Legge una cosa del genere Quindi Ti fa male la salute Voi mettete Più danno di qua Meno danno di là E in teoria Dovremmo avere un gioco Che Nel contesto Nel tutto Con le meccaniche nuove Dovrebbe comportarsi In modo Molto molto diverso Perché a volte sembra Ma basta che quella mossa Faccia quel danno in più Sì E la battaglia si accorcia Ma sono cose che Non ti rendi neanche conto Completamente Durante la partita Però Adesso Se hai cambiato tutte queste cose Ci sarà un motivo Vabbè Diciamo che adesso L'hanno Provata Adesso proviamo a fare Cioè è una bella botta questa Nel senso Devono Tante Cioè ha capito che I margini di errore Sono pochi ormai Cioè quasi nulli Nel senso O è giusto O questo gioco Rischia veramente di andare Nel bar Quindi A cacco Lo scopo della patch è renderlo Diciamo più piacevole Poi se ci sono dei problemi di bilanciamento Non è un problema Anche nel 2012 Comunque quando è uscito No quando è uscito L' arcade edition scusate Era decisamente sbilanciato Sì 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 Speriamo che tutte queste patch Tutti questi bilanciamenti sui pg Tutti insieme In una botta sola Perché altro ti diano Quell'effetto Il mediato Ti faccio tornare anche allo stipulo di giocare Che è quella che un po' manca Perché uno dice Si scoraggia Vedere le stesse cose E dici Però cazzo Che falle Perché hai anche alternative Cioè forse un gioco che dici O c'è quello C'è Street Fighter tanto Cioè Marvel Sì magari il tipo di gioco Comunque Street Fighter qua non tira ancora tanto Quindi Sai Deve essere Un'alternativa Ma per cui diciamolo Ha dei personaggi bellissimi Nel senso È brutto vedere tutta sta gente lì È sempre bello Vedermi usare Vedermi giocare Poi voglio dire C'era solo Rolento, Ryu Rufus Beh adesso Ryu L'hanno un po' del fatto Sì speriamo Speriamo Perché Rolento Non so bene Rolento l'hanno già nerfato prima Credo che Rolento forse è già stato nerfato Ma Ryu Speriamo Gli hanno ridotto quel medium punch Molto più debole E più lento E anche Hitbox L'hanno peggiorato diciamo E c'è stata che era Un pugno debole Potente a scavo Cioè Con tutti i PG che ci sono in sto gioco Basta Basta Ryu Basta Ryu Cioè Tu giocare a State Fighter X-Tack e nella Ryu Ryu Sempre Basta Ecco poi giochiamo a State Fighter 4 Guarda Potremmo scegliere due Ryu La gente sceglierà due Sì Vabbè Diciamo che intanto Tutte queste cose qua Non le scopriremo Solo giocando Sì infatti Quando fa qualche giorno Le scopriremo solo vivendo È questione di una settimana massimo Penso che vedremo già la pace La fanno uscire prima di Natale Eh così la gente Nelle vacanze Si studia un po' Il nuovo gioco Sicuramente Noi ci faremo un video sopra Appenaggia Senza dubbio Quindi vedete le nostre impressioni E vediamo se ci divertiamo un po' Eh Ma Quindi fateci sapere voi cosa ne pensate di X-Taken E quanto aspettate Se state continuando a giocare Esatto Se qualcuno ci gioca Se qualcuno ci gioca ancora Chi ha le palle Eh Spiegateci come fate Eh La carete Quindi Noi siamo i Super Fighting Bros Io sono Davy E io sono Rob E io sono Rob